Oh, finalmente è arrivato il caldo, ma ti sei accorto che sul cruscotto l'indicatore della temperatura dell'acqua quest'anno risulta essere un pochino più alta rispetto l'anno scorso. E anche l'aria condizionata, nonostante magari l'hai appena ricaricata, ti accorgi che non esce proprio bella fredda come usciva l'anno scorso o addirittura due anni fa. Il problema che potreste avere è la maglietta sui radiatori. La maglietta sui radiatori. Sì, aspetta che ti spiego. Praticamente, come tu ben sai, noi abbiamo il radiatore, il condensatore dell'aria condizionata davanti, poi c'è il radiatore dell'acqua e in mezzo ai due si forma la polvere, il polline, la terra, lo sporco. Questa nel tempo e negli anni forma una vera e propria maglietta, come puoi vedere qui sullo schermo. Questa maglietta rallenta fortemente il flusso d'aria che ha la capacità di andare a raffreddare sia il gas dell'aria condizionata ma anche l'acqua del nostro radiatore. Ed è per questo motivo che troverai l'indicatore della temperatura dell'acqua un pochino più alto rispetto a come eri abituato magari l'anno scorso o addirittura due anni prima. E nonostante tu abbia sempre sotto controllo o magari hai anche appena eseguito la ricarica dell'aria condizionata, come in realtà l'aria condizionata, il freddo che esce dalle bocchette, in realtà ha perso un pochino di capacità di raffreddamento. Cioè, non butta più fuori l'aria bella fredda, diciamoci, esce un pochino più calda. Uno dei motivi potrebbe essere, proprio come ti ho detto, la maglietta tra i due radiatori. Quindi, quando la porterai a fare la manutenzione, fai controllare anche l'eventuale presenza di questo strato di polline che si è sedimentato tra i due radiatori. E ti posso garantire che la temperatura dell'acqua tornerà precisa come quando era nuova. E l'aria condizionata, qualora tutto è ben in ordine e controllato, tornerà a buttare fuori l'aria fredda dalle bocchette. Come sempre è tutto, spero di esserti stato d'aiuto anche con questo nuovo video e perché no, like e condividi come sempre, mi raccomando. Ciao, alla prossima, andiamo nel sabattino.